Termina 3-0 a San Siro l'incontro tra Inter e Samp, però iniziamo a vedere qualcosa di positivo da questi blu cerchiati che sono scesi in campo oggi a Milano. Prima di iniziare però un saluto a tutti gli amici del Corner Sampdoriano. Come al solito, se i video vi piacciono vi invitiamo a lasciare un pollicione su, iscrivervi al canale, seguirci su Instagram, ci trovate come Corner-Sampdoriano e ogni mercoledì sera ci trovate in live sulla piattaforma Viola. Detto questo, iniziamo a parlare di una partita che comunque, a parer mio, ha dato dei segnali. La Samp scende in campo senza paura, con un 4-2-3-1, si può definire questo, usato da Dejan Stankovic stasera ed è una Samp che a me è piaciuta. Mi spiego meglio, il risultato potrebbe ingannare, però abbiamo visto per la prima volta in stagione, penso, una Samp che non ha mai avuto paura di perdere. Ci sta a prendere gol, secondo me non in questa maniera, ma adesso andiamo ad analizzare con calma. Però nel bene e nel male comunque ho visto una Samp cattiva, gagliarda, grintosa su ogni pallone ed è quello che ogni tifoso buio cerchiato vuole vedere da una squadra che comunque ha dei limiti tecnicamente e tatticamente parlando. Perciò, secondo me, siamo sulla giusta strada. Partiamo, partiamo con questa Samp che aveva bisogno di punti, ma era abbastanza scontato stasera non farli contro un Inter molto forte. Non ho bisogno io di parlarvi della qualità dell'Inter, una squadra che comunque ha dei fuori class assoluti. Barella stasera si è dimostrato un giocatore internazionale, come ha definito Beppe Bergomi in telecronica. Davvero complimenti a questo Nicola Barella che è sterepitoso. La Samp nei primi 20 minuti, però secondo me gioca molto bene, dei centrali che comunque si chiudono abbastanza bene fino al gol. Dopo il gol la Samp si è disunita un po' dal punto di vista difensivo, ma adesso ne andiamo a parlare. Una Samp che comunque ha provato a pressare l'Inter più o meno per tutta la partita, quindi io vedo dei segnali un po' di miglioramento. Ci sono state diverse occasioni. È un post partita abbastanza caldo. Perciò chiudo, scusa se mi dimentico qualcosa, ma comunque mi piace cercare di farvi capire quello che penso io subito dopo il match. Poi questo gol che secondo me si poteva evitare, quello di De Vrij sicuramente, dalla banderina non ci arriva Ferrari. E per me la marcatura zona non potrà mai funzionare nei calci d'angolo, perciò spero che si cambi, che si imberta rotta. Perché una squadra come la Samp ha bisogno di una marcatura uomo. Al limite è marcatura zona mista, però davvero secondo me sarebbe meglio ognuno il suo, vecchia scuola. E ognuno si prende la responsabilità. Se fa gol è colpa di quello che lo marcava. Secondo me questa sera è colpa di Amione Ferrari che potevano fare molto meglio. Però sicuramente Bruno Amione, parliamone, per me è un'ottima prova. Un giocatore che è limitato tatticamente, tecnicamente, come penso quasi tutti i giocatori della Samp. Però a differenza di Ogello, mette grinta, mette voglia. Quindi molto molto bene Bruno Amione. Sono curioso di rivederlo. È uscito per un risentimento muscolare. Speriamo non sia nulla di grave. Speriamo che siano solamente crampi. Però per me questa sera Bruno Amione ha fatto molto più di un Tommaso Ugello. Poi questo gol di Barella che ragazzi non si può prendere. È un gol che non si può prendere perché Bastoni fa un lancio bellissimo. Bastoni secondo me è uno dei difensori più forti in Italia. ha un piede favoloso, riesce a fare entrambe le fasi in maniera completa. Quello che volete. È un giocatore che a me fa impazzire. L'ho preso anche in tutti i fantacalci. Però non può farmi un lancio di 60-70 metri e la Samp in difesa non riesce a prendere questo pallone. Non si può. Prende una gol così, ragazzi, non si può. Perché vai a distruggere quello che hai creato di positivo perché comunque un 2-0 al 44esimo emotivamente un po' ti ammazza. E poi Barella, freddissimo, bravissimo nell'inserirsi. Però la colpa difensiva della Samp c'è. Non ricordo bene, se non ricordo male, Collei e Amione erano rimasti lì mentre Ferrari e Berezinski erano saliti un pochettino. Però bisogna cercare di fare le cose insieme. La linea difensiva deve essere unita, anche in questi casi. Però oggi ho visto una Samp che si è mossa bene difensivamente, più o meno. Si stanno vedendo pian piano dei miglioramenti. È appunto questa voglia, questa grinta che mi fa sperare. Nel secondo tempo è anche una Samp che ha avuto diverse occasioni. Manca Cattiviera sotto porta e manca una punta che ti tenga il pallone davanti. Può essere Montevago, che secondo me è entrato molto bene in partita. Non può essere Ciccio Caputo. Mi dispiace Ciccio. Mi dispiace, perché è un giocatore che io ho sempre ammirato. Però sta facendo veramente troppa fatica. È un giocatore che ha bisogno, secondo me, di giocare con uno fianco. Quindi 4-3-1-2. Oggi, secondo me, sarebbe stata una partita completamente diversa, che avrebbe provato completamente in maniera differente con Quagliarella di Jan Stankovic. Non c'era Fabio, che secondo me stasera avrebbe potuto dare un contributo enorme a questa Samp. Però bisogna fare conti anche con l'infermeria. Dispiace per Fabio, speriamo di recuperarlo presto per la prossima, che sarà sicuramente molto importante. Detto questo, è una Samp che nel secondo tempo non ha creato molto. L'Inter comunque è riuscita a palleggiare dopo i primi 20 minuti del primo tempo. È riuscita bene o male a proporre il proprio gioco. E comunque stiamo parlando di una squadra come l'Inter, che sicuramente gioca un buon calcio. È un Inter che ha iniziato un po' così, così questa stagione. È un periodo in cui deve cercare di riprendersi. Comunque questa Samp ha dato un forte segnale, un 3-0 secco a una Samp che comunque qualcosa ha proposto. Poteva finire anche 4-0, 4-1. Diciamo che le occasioni colossali è quella di Pussetto, ma comunque le ha avute sia la Samp che l'Inter. Quindi assolutamente è una partita che se fosse finita 3-1, 4-2, nessuno avrebbe rubato, anzi. Peccato, perché secondo me fare un gol sarebbe stato un segnale. Poi arriva questo 3-0 che chiude completamente le danze di Gioca in Correa, che esulta, che esulta. A me questo non andrà facilmente giù. Però dopo quel gol possiamo dire che la partita è definitivamente finita. Per andare ad analizzare i migliori e i peggiori, secondo me bisogna fare un po' un piano. A me è piaciuto molto Villar, è piaciuto molto Amione, come detto prima, e Djuricic. Sono giocatori che comunque sanno tenere il pallone, sanno farsi dire la squadra, e sanno cosa fare in campo. Specialmente Villar, secondo me oggi, ha dato sicurezza al pacchetto difensivo, offensivo, è riuscito a fare bene da filtro. Gerard Jepes. Un giocatore che a me fa impazzire. Sempre calmo, è intelligente, non dimostra l'età giovane. In campo sa cosa deve fare, è sempre tranquillo, con la palla nei piedi, perciò per me il migliore in campo è lui. Poi ci sono loro sotto. Però Gerard Jepes oggi è il migliore indiscusso davvero prestazione per me da 7. Ammolizione, forse qualche errore, a me non interessa. Ha messo voglia e dà quella tranquillità. Un giocatore che, secondo me, potrebbe diventare un Adrian Silva, un Ekdal. Comunque, sicuramente, iniziamo a intravedere qualcosa di buono da questa Samp. Djansdankovic, secondo me, l'ha preparata molto bene questa partita. Conosceva l'Inter, conosceva bene o male quelli che sono i pregi e i difetti della squadra nera-azzurra e, secondo me, però, doveva cercare, come dire, di curare un po' di più la parte difensiva. È un Assamp che comunque in fase difensiva lasciava i due esterni, quindi Gabbiadini e Leris abbastanza liberi, quindi non venivano giù per cercare di difendere, a differenza dei due mediani che ovviamente venivano a dare supporto alla difesa. Che dire, è comunque una Samp che dà questi segnali positivi. Leris, secondo me, è stato molto bravo, mi è piaciuto, mi ha convinto, anche oggi grinta. Mi aspettavo un'altra cosa in più da Manolo Gabbiadini, che insieme a Caputo, secondo me, è il peggiore in campo. non perché doveva fare gol, doveva fare assist, non mi è piaciuto. L'ho visto un po' mollo, stasera lo boccio. Poi, per il resto, da rivedere questi movimenti difensivi, però, ripeto, hai giocato contro l'Inter, se avessi giocato questa partita a Cremona vincevi 3-0, se avessi proposto questo calcio con il Monza vincevi 2-1, 1-0. Quindi, la Samp, da questa sera, mi fa intuire che è sulla giusta strada. Spettacolari i tifosi sugli spalti. 90 minuti di tifo blucerchiato, davvero, io, volevo esserci, purtroppo non sono riuscito ad andare a Milano, però, ragazzi, è qualcosa di bellissimo. Poi, c'è stata questa disavventura per questa tragedia per la tifoseria nera azzurra con un capo ultrà che purtroppo è deceduto nella notte, quindi non è, non ha fatto il tifo, giustamente. Per cui, si è risaltato ancora di più il tifo blucerchiato, davvero, magnifici, spettacolari come al solito e quello che dobbiamo fare noi come al solito ve lo ribadisco è continuare a seguire e a supportare la nostra Samp. Detto questo, termina qui l'analisi di Inter Sampdoria 3-0 per parlarne e per parlare dell'arbitraggio in particolare. Ci vediamo mercoledì sera sulla piattaforma Viola, quindi seguiteci con da Mattia e a tutto da Cornel è tutto sempre Forza Samp.